Questa squadra sicuramente, come vi ho detto, non può prescindere dai tre attaccanti, che poi possono essere messi, come ho detto prima, in un 4-3-3 o che possa essere addirittura anche un rombo, un 4-3-2-1, questo lo vedremo ora con il tempo, quando saremo completati e quando potrò valutare bene anche le attitudini dei ragazzi. Per adesso vedo grande impegno, disponibilità specialmente nelle due fasi, però è chiaro che questa è una squadra che per supportare i tre attaccanti deve portare molta flessione alta. Oggi a Sprazi abbiamo cercato di farlo, però bisognerà farlo molto meglio perché le cose sono due, o la palla la recuperi alta o la recuperi bassa, se la recuperi bassa gli attaccanti devono fare 50-60 metri, quindi la cosa più importante è convincerli a bruciare delle energie per mantenere alta la squadra e chiaramente gli altri reparti devono supportare questo. Io quello che ho detto e quello che dico ai ragazzi tutti i giorni è che noi dobbiamo, come vi ho detto, parlare poco e cercare di riconquistare con il lavoro, con la serietà, con la professionalità il nostro pubblico perché questo è quello che vogliono e questo è quello che noi dovremo fare. Io purtroppo non conosco altri metodi se non passare dal lavoro, dal sacrificio, dal creare un gruppo compatto che sia in grado di sacrificarsi anche nelle difficoltà e lavorare tutti insieme compatti.